Siamo qui oggi per suggellare questa amicizia con la Nazionale Italiana Poeti, la poesia che aiuta sempre a sottolineare i tratti di verità, ci aiuta a trovare parole per esprimere la verità del desiderio che abbiamo nel cuore, che è poi, come dire, seguire questo desiderio, questo desiderio di felicità, di verità, di libertà, di giustizia che abbiamo dentro e poi la modalità in cui noi esprimiamo questo desiderio poi è anche la nostra squadra, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro. E quindi abbiamo chiesto a questi nostri amici, gli amici della Nazionale Italiana Poeti, di aiutarci in questo percorso, di far con noi un pezzo di strada e aiutarci a sottolineare appunto un tratto di verità anche su quello che è poi ciò che conta di più per noi, che è comunicare, aiutarci a comunicare il valore della sicurezza sul lavoro. Quindi ringrazio i nostri amici della Nazionale Italiana Poeti, ringrazio tutti i presenti oggi e veramente ci auguriamo di fare non solo un tratto di strada assieme ma presto di ritornare in campo.